Dopo il flop delle UTI e il rinvio di assegnazione di nuove funzioni all'organismo di area vasta deciso a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale, ci sono settori specifici che non possono però rimanere in una situazione di stallo. È il caso dei servizi sociali, tema per il quale sindaci e assessori dei comuni dell'ex provincia di Trieste sono stati chiamati a raccolta stamani nel salotto azzurro del municipio di Trieste dal vicepresidente della regione Riccardi e dall'assessore alle autonomie locali Roberti. Stiamo agendo con delle modifiche sostanziali per il primo momento per quanto riguarda la legge 26 sulle UTI quindi vogliamo dare piena libertà e autonomia ai sindaci di decidere se aderire oppure no. È ovvio che in questa situazione il rischio qual è? Il rischio è che da domani tolti gli obblighi e tolte le penalizzazioni molti comuni decidano di andarsene ma noi dobbiamo prima di tutto garantire i servizi essenziali e tra questi sicuramente c'è quello dei servizi sociali che già da molti anni, molto prima dell'avvento delle UTI venivano fatti in forma condivisa con gli ambiti sociosanitari quindi l'obiettivo è quello di ritornare per quella funzione ai vecchi ambiti in modo da garantire una continuità qualunque sia poi il futuro e il destino delle UTI stesse. Nel caso dell'UTI Giuliana in particolare, l'unica come ha sottolineato il sindaco di Trieste di Piazza che ha funzionato con l'adesione di tutte le amministrazioni del territorio si tratta di valutare se l'opzione migliore sia quella dei tre ambiti precedenti Duino-Urisina, Sgonico e Morupino il primo, Trieste il secondo, Muge e Sandorligo il terzo oppure di una loro riformulazione semplificata sempre tenendo conto che la Venezia Giulia pesa per il 40% complessivo nell'erogazione di servizi sociali a livello regionale. Crediamo che si debba ritornare all'organizzazione precedente adesso discuteremo con tutti i comuni la definizione degli ambiti perché Trieste ha tre ambiti, l'area Trestina ha tre ambiti quindi bisogna capire se tenerne tre oppure ridurli siamo a discutere di questo e soprattutto siamo a fermare un principio che la riforma degli enti locali deve parlare con la riforma della salute perché il tema dell'integrazione sociosanitaria è il pilastro centrale dell'aspetto di questo tipo di lavoro dove i comuni e i sindaci e gli amministratori locali sono una parte fondamentale che la riforma degli enti locali non teneva in considerazione.